90 anni fa nasceva a Vicenza Goffredo Parise, uno degli scrittori italiani più amati del Novecento. Sin da giovane Parise coltivò la sua passione per la scrittura e anche per questo decise di trasferirsi a Milano e mentre lavorava nella casa editrice Garzanti nel 1954 pubblicò il libro che lo rese famoso, Il Prete Bello. A questo seguiranno altre opere molto note, vincerà molti premi letterari, grande successo avranno nel 72 anche i suoi sillabari. Ma Parise non fu solo uno scrittore, fu anche l'autore di reportage famose, in particolare quelli per la Cina scritti per il Corriere della Sera che poi verranno raccolti nel libro Cara Cina. Morirà poi a 57 anni a Treviso per alcune complicazioni cardiache. Grazie. Grazie.